Egregio signore, Milazzo potrebbe campare di turismo. Tutti quelli che vengono qua dicono che è meraviglioso e stupendo, però è un po' cavotica. A proposito, ha sentito di quell'incidente che è successo stavattima sul lungomare di Ponente? No, no, adesso cambierà tutta la viabilità. Veramente? Non sapevo niente. Qua sul giornale non c'è scritto niente. Cambierà tutto. Ci saranno rotonde gli incroci, isole pedonali in marina, cambieranno i sensi unici. Bene, anche quello accanto al Duomo, vero? No, che du no! Mangiare pesce buono è diventato difficile. A proposito, ha sentito di quello squalo che hanno pescato a Baccadella? Pesava 120 kg. Il giornale non ho letto niente. Ma quando è successo? È successo ieri sera. Hai capito perché le navi da cruciere non verranno più a Milazzo? Eh sì, è proprio vero che se uno vuole sapere le ultime notizie sul Milazzo deve venire dal barbiere. troppo buono, ma ti posso assicurare che non è più così. Dal barbiere, una volta forse. Buongiorno! Del barbiere, una volta forse. Del barbiere, una volta forse. Desoltare le rivino, delle fortuna, per FEV di solutare il兩個 troppo buono, perché non è più sonata da divinare. Il barbiere. Il barbiere, il barbiere, anche un barbiere, anche un barbiere. Cebattà, il barbiere, anche un barbiere. Invece da trovare il barbiere. Amore, tornare, tornare. Alguardo, è diventato. Il barbiere, un barbatello. Grazie a tutti